cari amici di bike channel benvenuti a questa nuova puntata di mondo triathlon io sono dario daddo nardone e con noi abbiamo il nostro luca mancuso ciao luca benvenuto ciao buonasera buonasera a tutti è piacere averti qui con noi quest'oggi per questa nostra bella chiacchierata che è banale ma noi vogliamo cominciare sempre così deve cominciare con la storia di luca bambino che scopre i primi sport i tuoi primi passi sportivi quali sono stati beh daddo come già sai ne abbiamo già parlato io inizio a fare sport veramente tardi inizio quasi a 30 anni ok approccio allo sport a 30 anni e guarda caso proprio al triathlon ti voglio chiedere questo allora per cominciare cosa pensavi dello sport in questi primi 30 anni di non sportivo che come interagivi se hai avuto comunque delle interazioni avevi magari una squadra del cuore o comunque avevi degli sport che seguivi da da spettatore beh allora in realtà l'unico sport che seguiva perché la mia famiglia seguiva il calcio ok e quindi non mi restava che il calcio a me il calcio non è mai piaciuto fantastico e quindi appena ho potuto ho iniziato a a nuotare ma più che nuotare a fare immersioni subacquea dovevo questa grande passione che era la fotografia subacquea e quindi per quasi 15 anni per quasi 15 anni ho fatto questo finché è arrivato il triathlon è arrivato il triathlon è stato però adesso il triathlon ovviamente sarà il leitmotiv della nostra chiacchierata in varie declinazioni è perché ha delle avventure assai particolari da raccontarci il nostro luca è affascinante questo mondo della della subacquea del appunto il mondo in esplorato da esplorare da conquistare sotto sotto il livello dell'acqua ci racconti un po come come è avvenuta questa tua avventura sì sì un'avventura bellissima ero in calabria io vivo in calabria ed ero a isola capo rizzuto in questa riserva meravigliosa e un amico quasi per scherzo mi dice senti perché non andiamo giù in profondità con con l'auto respiratore e non l'avevo mai fatto appena però ho provato la prima volta è partita una grandissima passione perché è un mondo veramente a sé da addostare sott'acqua a 30 40 metri di profondità nella quiete ma anche a fotografare le meraviglie che ci offre quello spettacolo è stato veramente bello poi ho girato un po tutto il mondo per fare un po di immersioni subacquee ed è stato veramente bellissimo sì 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 molto bello e adesso vediamo perché secondo me ti ha lasciato qualcosa anche di curiosità nella scoperta nell'avventura che poi riaffiora nella vita sportiva del nostro nel nostro luca dai allora arriviamo a questo triathlon perché appunto c'è stato questo incontro innanzitutto ci devi spiegare come è avvenuto quando ma soprattutto conoscevi già prima il mondo del triathlon o è stato un incontro inaspettato beh è stato veramente inaspettato quasi come un po una favola perché io nell'arco di un mese mi sono ritrovato a nuotare con la nuoto con la squadra nuoto master della città ok a corricchiare perché era un po sovrappese quindi mi sono messo a correre e poi per caso un mio caro amico aveva una bicicletta una bicicletta che mi diceva mi ha detto guarda ti lascio questa bici perché ne ho preso una nuova mia moglie non deve sapere fantastico bicicletta stitri atleti stitri atleti sì 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 al che mi ha detto utilizza scusami che marca era perché la prima bici bisogna nominarla villier oh ok sì 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 perfetto ricordo ancora ma non sapeva andarci al che insomma chiedo un po di informazioni vabbè mi piace iniziamo a fare qualcosina poi grazie a un mio cugino stefano mi dice ma caspita stai facendo nuoto stai facendo corse bicicletta perché non fai il triathlon cioè tu ci vuoi dire che c'è un cugino triatleta bravissimo lo salutiamo ciao stefano ma anche lui mi dice io non so perdonatemi ma non so che cosa sia il triathlon mi sono informato che anni erano e questo era il 2008 ok nel 2008 quindi una quindicina d'anni fa di esperienza di triathlon il nostro luca la porta a casa una passione una passione immediata immensa e anche dopo qualche mese dopo tre mesi vado a san vitolo capo a fare la mia prima gara sprint una delle gare storiche del circuito regionale siciliano ma da tanti anni nel circuito della federazione italiana triathlon ovviamente tra l'altro ci sta giusto raccontando di posti bruttarelli anche dal punto di vista paesaggistico tutti postaci ecco abituiamoci anche alla bellezza non solo del triathlon che è uno sport meraviglioso lo sappiamo ma anche il fatto che al qui presente il nostro caro luca piace abbinare la bellezza dello sport con la bellezza del luogo da vivere da esplorare da raccontare molto anche da raccontare da raccontare beh siamo arrivati facciamo un bel salto arriviamo fino al mese mese scorso dardo perché parliamo di queste bellezze che ha la nostra calabria invito tutti veramente a venire a scoprirla abbiamo fatto un bellissimo triathlon un triathlon degli dei come mai degli dei a tropea tropea perché tropea è collocata proprio sulla costa degli dei è stato facilissimo dare un nome a questa manifestazione molto bella vinta da federico spinazze e da francesca migliaccio eravamo più o meno 100 c'eri anche tu c'ero anch'io c'eri anche tu c'eri anche tu stato molto bello divertente l'anno prossimo seconda edizione speriamo di essere più numerosi adesso abbiamo parlato di questa bellissima manifestazione ma ci sono un sacco di altre cose in mezzo perché da triatleta a organizzatore cioè adesso ci sono queste due è la stessa faccia del nostro luca praticamente che che è poliedrico e multisportivo non solo come atleta ma anche come come uomo evidentemente quello che gli piace proporre sempre per raccontare della sua bella sicilia scusate calabria ma ho detto sicilia perché ho avuto un lapsus di cui poi magari ci spiega qualcosa il nostro caro luca quello che ti volevo chiedere luca a proposito della calabria che è una terra meravigliosa sotto una marea di punti di vista adesso faremo una puntata solo a parlare delle bellezze della calabria evidentemente dal punto di vista del movimento del triatlon chiaramente si fa ancora fatica nel senso che ci sono poche ma buonissime società che stanno crescendo bisogna far realmente crescere dai bambini ed è stato proprio quella una delle attività che insieme anche con mario siciliano responsabile della federazione appunto per quanto riguarda la regione calabria tu in prima linea hai voluto fare in queste stagioni esatto esatto tant'è vero che grazie al progetto della federazione il triatlon entra a scuola ho potuto insegnare a tanti bambini di 6 e 7 anni appunto le nozioni del triatlon è stato bellissimo erano circa 150 bambini è stato veramente bello Dado e a fine maggio abbiamo fatto una gara una gara dedicata solo a loro quindi erano più o meno in quell'occasione 100 bambini ma si sono divertiti tantissimo e speriamo di poter riproporre il progetto per quest'anno allora però abbiamo saltato tutto il pezzo di gare di avventure da triatleta del nostro Luca che è ancora ovviamente un triatleta che ha voglia di sperimentare di vivere in prima persona queste fantastiche emozioni che il nostro sport è capace di darci quindi raccontaci un po' dopo la prima quali sono state anzi non ce ne ha raccontato neanche bene San Vito Lo Capo come è andata San Vito Lo Capo è andata benissimo San Vito Lo Capo è andato benissimo pensavo di arrivare ultimo ho detto ok se arrivo ultimo vuol dire che avrò tanto da migliorare non sono arrivato ultimo ma devo continuare a migliorare ti chiedo questo però prima di raccontarci un pochettino più nello specifico nuoto, bici, corsa allora nuoto facevi le immersioni bici te l'avevano data qualche giorno prima probabilmente sì bravo la corsa corri chiavi quindi sei riuscito comunque piano piano ho fatto tre mesi importanti d'allenamento poi ho la fortuna di conoscere un caro amico un triatleta che è Vladimir Polikarpenko che mi ha ragazzi Vladimir Polikarpenko l'Ucraino d'Italia campionissimo che ha fatto anche le Olimpiadi che ha vinto una gara di Coppa del Mondo ecco stiamo descrivendo uno dei più grandi diciamo del decennio degli anni 2000 dei primi anni 2000 in assoluto che è un atleta che gareggiava per vincere a livello assoluto internazionale sì infatti quando glielo ho detto si sarà messo a ridere sicuramente ma dove vai anzi no mi ha dato dei primi consigli e chiaramente è stato divertente allenarmi non l'ho presa troppo sul serio nel senso non mi sono accanito troppo mamma mia chissà che cosa sarà così complicato sono andato mi sono buttato un'immensa passione poi da lì c'è stata un'evoluzione cosa ti sei detto però al traguardo del triatrone di San Vitolo Capo non lo faccio più A non lo faccio più B mamma mia quanto è duro C quando è che posso scrivermi alla prossima C ragazzi funziona così i triatleti oramai ci conoscete li conosciamo bene sì 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 da lì poi sono susseguiti degli anni di gare sprint olimpici anche al che ho fatto una naturale evoluzione sui medi e poi nel 2016 ho scoperto la lunga distanza ok la lunga distanza con questo challenge Venezia sì era il 2016 appunto e bellissima sensazione bellissime emozioni e poi da lì c'è stato nuovamente un crescendo con Ironman e Nizza per poi approdare finalmente anche perché mi diverto tanto agli extreme triathlon ecco ragazzi adesso entriamo anche a parlare di extreme però prima ovviamente il primo triatrone non si scorda mai ma anche il primo Iron Distance più che farci raccontare la tua gara vorrei chiederti come è maturata la decisione di passare a una distanza così impegnativa in cui poi sappiamo lo diciamo sempre ed è giusto secondo me sottolinearlo è importantissimo l'allenamento fisico ed è importantissimo l'atteggiamento mentale certo sì ma ti ripeto io penso di esserci arrivato gradualmente a seguito delle tante gare anche su distanze medie che ho fatto c'è stato l'anno precedente che ho fatto forse 8-9 gare su distanza media ma mi mancava ancora qualcosa e quindi è inevitabile alla fine per un triatleta poi grande come sono io provare una distanza del genere e quindi mi sono anche in quel caso buttato più o meno però mi sono divertito è andata bene e che cosa ti ricordi allora di quel Challenge Venice tra i tanti ricordi che sicuramente ti riaffioreranno quelli più caldi quelli più emozionanti quali sono stati ovviamente la finish line ma non solo immagino no dopo la finish line la faccia della mia moglie adesso Teresa all'epoca stavamo insieme perché le avevo raccontato più o meno di che cosa lei mi ha sempre seguito però non aveva idea che trattasse di 10-11 ore di gare quindi ricordo ancora la sua faccia appena sono arrivato contenta sì ma anche un po' sbalordita da tutti questi atleti che compivano questa questa impresa dai è bellissima anche ogni tanto ci capita di parlare anche di questo aspetto dell'equilibrio familiare quindi sante le nostre mogli o santi in caso di mogli che gareggiano perché ce ne sono anche i mariti insomma chi accompagna un triatleta soprattutto nelle long distance fa quasi un Ironman anche lui perché star dietro a questi matti scatenati che vogliono nuotare pedalare e correre per ore e ore non è tanto semplice anche dal punto di vista logistico per gestire tutto quello che è anche poi il viaggio arrivarci quindi gli allenamenti lunghi per te com'è stato? no no diciamo io ho trovato subito un accordo con mia moglie fatti chiari fatti chiari no ma sostanzialmente riesco a mi sveglio molto presto e quindi faccio anche attività molto presto pausa pranzo dal lavoro per il nuoto e quindi la bicicletta beh quel sabato la domenica me lo concede quindi ho trovato subito una un equilibrio assolutissimamente personalmente molto più importante la famiglia quindi è chiaro che io mi alleno in base alle esigenze familiari nelle gare che hai fatto extrema parte perché adesso poi apriremo quella grande finestra e dobbiamo raccontare delle cose fantastiche ragazzi quindi di iron distance o anche di mezzi quali sono quelle che ti sono rimaste più nel cuore magari non solo per una prestazione che ti ha particolarmente reso fiero di te ma anche perché che ne so hai visto dei posti particolari o hai conosciuto delle persone particolari sì per due volte ho fatto Barberino di Mugello ok distanza media e probabilmente sono state le gare più divertenti perché sono sempre andato con i due amici miei storici di sempre e quindi è stato sempre un gran divertimento questo è l'aspetto che colgo di più nelle gare cioè divertirmi non solo dentro la competizione ma anche sostanzialmente fuori e ci sta alla grande quello che ti volevo chiedere adesso prima di appunto di fare il passo ancora più lungo della gamba come si suol dire passare agli extreme in questo tipo di gare poi è assolutamente diciamo diciamo normale usiamo questo termine che ci siano dei momenti in cui la testa incomincia a pesare di più con pensieri che possono essere un po' più negativi rispetto a quello che è l'andamento del tipo ma chi cavolo me lo sta facendo fare di fare tutta questa fatica cominciano ad avvenire dolori muscolari in muscoli che non sapevi neanche di avere come si affrontano come affronti tu questi momenti che in una gara di così tante ore sono inevitabili ed è proprio lì che probabilmente deve fare lo switch l'atleta per diventare un triatleta Ironman sì è vero dici benissimo perché tutti gli allenamenti che fai comunque non ti danno quelle sensazioni che poi andrai a provare in gara quindi io sinceramente personalmente mi alleno in questo modo mi porto sempre un po' oltre cioè mentalmente cerco di stressarmi un po' di più perché so che poi in gara in un extreme quello stress arriva quindi mi faccio trovare un po' pronto non sempre perché sono dei grandi momenti di sconforto però anche in allenamento prova a stressarmi un po' di più come magari con uscite notturne con nuotate in acqua fredda quindi convincendomi che posso farcela è un gioco interessante che fai con te stesso però è importante penso che si debba fare altrimenti arrivi là e fa male va male assolutamente raccontaci allora di questo ulteriore passo in avanti e qual è la differenza spiegaci che cosa vuol dire un extreme triathlon allora un extreme è sicuramente una gara molto più complicata di quella che può essere una gara su lunga distanza è chiaro sono tutte le pendenze prima di tutte le condizioni atmosferiche perché pensa che già ci tuffiamo in acqua in acqua abbastanza fredde anche alle 5 di mattina quindi col buio quindi ci toccano serve per svegliarsi bene serve per svegliarsi bene quindi vuol dire che tu sei sul campo di gara già per le 4 di mattina quindi per molti sembra sia già essere una forma di stress questo qua niente fai questi 4 chilometri a nuoto in queste acque abbastanza congelate e poi ti spettano questi 180 chilometri con salite veramente importanti dislivelli che arrivano anche fino a 4.000-4.500 metri e quindi capisci che è una gara che non fai contro gli altri assolutissimamente ma lo fai per misurare te stesso tant'è che in queste gare le classifiche non hanno un valore a volte non vengono neanche stilate delle classifiche ma c'è solo un elenco di persone che arrivano al traguardo chi arriva e chi purtroppo non arriva e le percentuali l'abbiamo detto come cioè non arriva nel senso no 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 non arriva nel senso appunto questi cut off che chiaramente mettono dei limiti temporali ecco perché appunto nella frazione di corsa tendenzialmente ci sono i primi 30 che sono duri ok ma non impossibili e poi alla fine c'è un regalino finale 7, 8, 10, 12 chilometri di in genere una salita quasi mani e piedi sì sì non piccarsi come l'Eagle X-Man per esempio per esempio l'Eagle X-Man gli ultimi 5 chilometri sono stati interessantissimi e lì anche un altro aspetto importante in particolare in quegli ultimi chilometri di scalata alla vetta diciamo finali per raggiungere il proprio traguardo ma già durante tutta la gara è una gara quella degli extreme triathlon che appunto ribadiamo hanno le distanze iron quindi 3, 8, 180, 42 circa con un po' di tolleranza ma fa la differenza anche il team che segue l'atleta cosa vuol dire? il supporto praticamente si ha la necessità di essere seguito in bicicletta e anche nella frazione finale di corsa da qualcuno, da un amico in questo caso sempre il buon Stefano Stefano lo salutiamo di nuovo San Stefano sì è sempre lui e questo è molto importante soprattutto negli ultimi chilometri di corsa dove veramente si è molto stanchi e quindi un supporter che ti dia la forza il coraggio di andare avanti e che ti sproni per dire ok guarda sono gli ultimi metri anzi sono gli ultimi metri guarda l'assunto perché sono in alto è importantissimo quindi il supporter in queste gare extreme penso sia fondamentale probabilmente fa il 30% 30% della gara è sua fantastico quello che ti chiedo è se ci sono delle differenze tra conquistare una finish line di un iron distance classico diciamo e quella di un extreme cioè ci sono le differenze le abbiamo dette dal punto di vista pratico ma a livello emozionale allora io sì penso che non ci siano paragoni ma non perché allora una gara di extreme è vissuta in modo più intimo molto più intimo non so anche perché c'è molti pochi ma soprattutto per quello siamo in 80 in 100 persone quindi riesci a ritrovare anche te stesso tutti i momenti che riesci a passare da solo insomma ti dà un'altra concezione che non un ironman appunto bellissimo sì ma con 3-4 mila persone insomma è molto più intimo appunto una gara di extreme al di là appunto delle gare di extreme che hai portato a termine tu in prima persona hai voluto scoprire la tua fantastica regione farla conoscere con delle tue iniziative particolari che hai fatto nel corso degli ultimi anni e poi dobbiamo parlare anche di una biciclettata chiamiamola così di una ciclovia fantastica però andiamo con ordine prima raccontaci di quello che hai fatto nella tua Calabria come triathlon allora sì nel 2019 ho fatto questa gara Livigno l'Icon Livigno nel 2020 purtroppo pandemia quindi tutti chiusi lockdown al che io comunque avevo necessità di muovermi come tutti i tre atleti e inizio a prepararmi e metto giù un progetto un po' un po' bizzarro ossia di attraversare tutta la Calabria costiera 750 km in tre distanze Iron in tre giorni scusate mi viene un po' da sorridere perché c'è chi in quei tempi faceva i rulli sul balcone e lui cosa dice dai io mi faccio metà della costa della Calabria mi sembra proprio lineare sì 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 tutta tutta scusate tutta tutta la costa e questo accade a settembre del 2020 dove in tre giorni consecutivi copro distanze Iron anzi un po' più lunga la bicicletta con quasi 220 km però io il terzo giorno arrivo dall'altra parte della Calabria bellissimo con tante persone a seguirmi con il team Val Susa dove c'era il mio preparatore Gabriele Abate a seguirmi è stato un tripudio di colori di feste perché tante feste quando arrivavo sul punto d'arrivo è stato molto bello dopodiché l'anno successivo avevo voglia ancora di Xtreme voleva muoversi un po' a sgranchire un po' le gambe sì volevo un po' muovermi però avevo un pallino insomma io vicino casa in Sicilia ho una vetta una vetta importante che si chiama Etna e non è niente male io l'avevo scalato diverse volte così con amici un posto bellissimo e al che mi viene lì in mente di fare una qualcosa di di bizzarro chiamiamolo bizzarro via beh sì te la racconto insomma organizzo il tutto in solitaria sempre comunque accompagnato da ragazzi amici dello staff compio la traversata dello stretto di Messina subito dopo mi metto in bici e faccio 180 km all'interno della Sicilia passando da da Novara insomma un punto anche in cui ha transitato diverse volte non Novara no Novara di Sicilia di Sicilia conoscendoti poteva anche essere arrivo a Taormina copro questa distanza di 180 km e poi da lì da lì cosa vuoi fare da lì cosa bisogna fare se non seguire il percorso della super maratona dell'Etna che dal mare ti porta fino a 3000 metri solo di salite insomma ragazzi e questo l'abbiamo anche fatto ed era settembre del 2021 ma non finisce qui no non finisce qui perché questi vulcani insomma ho una passione un po' particolare per i vulcani e in Italia c'è il Vesuvio anche e quindi c'era c'era il Vesuvio era lì insomma proprio vicino chiamo gli amici Mauro Ciarrocchi che saluto ciao Mauro e Fabia Maramotti ciao Fabia e insieme andiamo a fare quest'altra cosetta ossia un extreme sempre però sul Vesuvio quindi siamo arrivati a Castellabate abbiamo fatto i nostri 4 km di nuoto e poi da lì in bicicletta fino a Dercolano quindi passando tutte le costiere per arrivare poi correndo dentro Napoli scortati dalla polizia è stato bellissimo e abbiamo finito la nostra corsa fin sul Vesuvio anche lì 13-14 ore è stato molto molto divertente allora nel frattempo che Luca cerca altri Vesuvio altri vulcani in Italia ce ne sono tra l'altro ma con strade percorrime mi vengono in mente le olie non lo so insomma comunque stiamo sintonizzati perché ci saranno delle novità importanti a breve che il nostro Luca con la sua X Sport Green ci proporrà quello che però volevo chiederti ancora perché questi sono progetti che arriveranno da qui a breve nelle prossime stagioni è quello che hai fatto per valorizzare una fantastica ciclovia nella tua regione sì esatto Dado in Calabria ho la ciclovia dei parchi della Calabria una ciclovia premiata nel 2001 come la miglior ciclovia d'Italia e un mesetto fa un mesetto fa insieme ad Alessandra Fior abbiamo documentato abbiamo documentato questi 545 chilometri con 10.000 metri di dislivello in 6 reportage 6 reportage che usciranno a breve ed è stato bellissimo la Calabria è veramente una terra meravigliosa poi pensa questa ciclovia ha dei numeri in continua crescita ciclo turisti che provengono dal nord America dal nord Europa e pensa lungo questa ciclovia sono nate ben 233 attività fantastico esatto esatto che si occupano di ristorazione per il pernottamento assistenza alle biciclette e quindi questo chiaramente va a migliorare ancora la qualità della ciclovia per il ciclo turista che arriva i posti che abbiamo attraversato con Alessandra sono ovviamente tanti geocity siti archeologici abbiamo incontrato arte contemporanea con il Mabos della Sila e i murales di Cicala e di Sorbo San Basile i vecchi mestieri abbiamo andato a conoscere i Carbonai di una volta oppure i negozi artigianati di tessiture nonché cibo cantine insomma veramente ce n'è per tutti la ciclovia dei parchi della Calabria si attraversano ben 4 parchi 4 parchi 3 nazionali uno regionale pensa 300.000 ettari d'addo ossia il 30% della biodiversità d'Europa fantastico ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo in Calabria con dei posti veramente meravigliosi che dire venite a trovarci è un sito sul sito della 5 parchi in 5 lingue strutturato veramente bene le cose a dire sarebbero tantissime però attraversarla in bicicletta è stato veramente fantastico io invito veramente tutti a venirci a trovare e allora noi continueremo a seguire ovviamente a supportare il nostro fantastico Luca Mancuso andate sui social di X Sport Green per vedere delle immagini incredibili e per scoprire quello che ci proporrà da qui a breve ne sono certo il nostro Luca Mancuso ti ringrazio Luca per essere stato oggi qui con noi e ci vediamo ovviamente alla prossima puntata di Mondo Triatron sempre qui su Bike Channel da Docea io triamo buon triatron a tutti ciao amici ciao ciao